Pensavo fosse roba tipo un fratello che aiuta un fratello. Chi lo sapeva che... Stai ridendo di me? Non sto ridendo di te! Sì, sì, si vede benissimo. Sto ridendo per la storia, non sto ridendo di te. Il punto è questo. Io vivo la vita in un certo modo. E cioè, a me piace pensare che se metti a disposizione la tua fiducia... Insomma, se la concedi... Senza aspettarti niente in cambio. Se dai fiducia alle persone, loro vorranno esserne all'altezza. Diciamo che non sempre funziona benissimo. Ma nella maggior parte dei casi, io penso che se lo fai, le persone diventano migliori. Ci credo veramente. È un pensiero dolce, Ned. Oh, mi reputi un idiota, come tutti. No, non ti reputo un idiota. Anzi, penso che sia proprio un bel modo di vivere la vita. Io sono come te, ma... Almeno lo ero, sì. Prima di quella merda di Cileno. Sì? Sì. Ma com'è andata? Sì. 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 Sì.